Con le immagini di uno dei punti principali di una città bellissima, della quale ora parleremo, se non mi sbaglio quello è l'inizio dell'Istorn, non per niente la parola è veneta, che ricorda il suo passato e quindi la città è Dubrovnik, Oragusa come si chiamava una volta, abbiamo con noi il piacere stasera di avere un amico di lunga data, il dottor Nuccio Malfitano, che tra i tanti cose che ha fatto per il mondo dello sport in tutti i campi e anche della politica è stata anche assessore e nel periodo in cui è stato assessore è stata una delle anime di un gemellaggio che avrebbe potuto e dovuto essere importantissimo e che ora è praticamente dimenticato, ovvero sì il gemellaggio con Dubrovnik. Nuccio, ma esiste ancora qualche traccia, qualche legame, c'è pure sottilissimo? Purtroppo nel tempo è andato sempre più scolorendosi, per cui adesso è da un po' di tempo che non c'è più, c'è traccia, l'Abili, se non la mia, ogni anno io ci vado, perché lì ho trovato tanti amici, la città è sempre più bella però sì, è bellissima Dubrovnik e mi dispiace che i ragusani non la conoscono, anzi mi augurerei che i ragusani andassero in massa a vedere Dubrovnik, a conoscere i ragusei. I ragusei, senti un po', ma in queste tue, mi fa piacere che c'è ancora qualcuno che cerca non di reannodare i fili, ma almeno di fare in modo che non si spezzino tutti, da parte, dalla parte ragusea. Ragusa, Dubrovnik, io le chiamo Ragusa, ma comunque Dubrovnik è gemellata con tante città, che è una delle capitali mondiali del turismo. E devo dire che andando a Dubrovnik in macchina, ci si è messo Dubrovnik gemellata con, e poi Ragusa e tutte le altre città. All'orfanatrofio di Dubrovnik nel 1993-94 io ci sono stato 3 o 4 volte con un pulmino della pallavolo pieno di aiuti per l'orfanatrofio. Perché ricorderemo che durante quella terribile guerra che fu nell'ex Jugoslavia Dubrovnik, oltre ad essere bombardato, ebbe anche un assedio terribile che commosse tutto il mondo. Sì, sì, e andava a portare gli aiuti all'orfanatrofio, parlo del 1993-94, non sto parlando, e all'orfanatrofio di Dubrovnik, Maslina si chiama, che poi è ulivo in croato, c'è una lapide con la città di Ragusa, che ringraziano la città di Ragusa. Un'altra è al centro universitario di Dubrovnik, dove abbiamo portato aiuti perché era stata un po' semidistrutta, e dove c'è, grazie agli aiuti della città di Ragusa. Ricordo che sono gemellate sia, c'è un gemellaggio, l'ultimo è stato fra i circoli nautici di Dubrovnik qualche anno fa e di Ragusa, e poi, prima ancora di noi, c'è stato il gemellaggio fra la Curia Vescovile. Sì, perché loro hanno la loro festa principe, quella di San Biagio. È una festa bellissima, i ragusani dovrebbero andare a vedere, è una festa eccezionale. Allora, noi l'abbiamo vissuta insieme con una temperatura, era il 3-2 febbraio, un freddo che si moriva, mi ricordo la mattina, prima nella cerimonia per i caduti al cimitero, e poi questa lunghissima messa che durava circa tre ore, credetemi si gelava. È stata la giornata del gemellaggio, quando siamo andati al cimitero, dove abbiamo portato l'omaggio della città di Ragusa e la cosa triste era vedere tutte quelle croci, dove con i nomi, tutti i ragazzi, 18 anni, 20 anni, 21 anni, che avevano combattuto. Senti un po', ma come nacque l'idea del gemellaggio? Diciamolo in breve. L'idea del gemellaggio, devo dire, che è nata prima perché si gemellarono le Curie, poi siamo andati Giorgio Chessari, Giorgio Chessari andò in Ava Scoperta, e poi devo dire, una grande stima io ho per Giorgio Chessari, non faccio uno sforzo, e mandava a me, che ero stato suo antagonista nel ballottaggio a sindaco. E da lì poi nacque questa idea del gemellaggio. Mi ricordo che cominciamo a portare aiuti, ci andavo io con un bulmino, carico, e da lì poi piano piano, piano piano è nata l'idea del gemellaggio con la città di Ragusa. E soprattutto l'artefice principale fu una cara amica mia che adesso non c'è più, Ivana Burgele, una grande studiosa del mondo ebraico, che è venuta qui a Ragusa per conoscere Ragusa, lei, e poi ha fatto conoscere. Perfetto, io ricordo a proposito di questo, lo cito sempre quando ne parliamo con Giovanni di Stefano, che era con me e con te, nei sei giorni, di questa sinagoga in cui il vecchietto che, la sinagoga diciamo in un palazzo, quel vecchietto ci raccontammo, non abbiamo più neanche i dieci uomini necessari, il miniam per che le cerimonie religiose abbiano valore, ci vogliono dieci uomini, e non c'erano perché praticamente tra guerre, deportazioni, eccetera, la comunità ebraica di Dubrovnik, una volta fiorentissima, era praticamente scomparsa. Ma io ricordo che Dubrovnik, che noi siamo, ripeto, i sei giorni che siamo tutto noi, sono stati molto, non solo gentili, ma sono stati affettuosi proprio. Sì, sì, un grande affetto per la città di Ragusa, forse perché portiamo anche lo stesso nome, attenzione, è nata così spontaneamente, poi si è sviluppata fino a quando abbiamo fatto il gemellaggio, tu eri presente nel 2002 a Dubrovnik nel teatro antico di Dubrovnik nel palazzo di Città. E poi c'era una partecipazione di persone enorme, e la città la sentiva, la sentiva. C'era una autorità civile, militare, io mi ricordo… Era questo stato nato da poco che era la Croazia, che era la Croazia, che era ritornato da poco. Vabbè, certo, era ritornato ovviamente, era comunque ritornato con una faccia un po' migliore rispetto all'ultimo. Diversa. Si era scanzato re Tomislav nel 1942, insomma, quello se l'era scanzato. Allora, noi abbiamo visto la parte religiosa, ma Dubrovnik è comunque una città che oltre ad essere di una bellezza incredibile lei, è di una bellezza struggente nei dintorni, perché la parte di quella costa è incredibilmente bella. E questo è fatto bene a farmi questa domanda, perché bisognerebbe andarci non solo per Dubrovnik, ma per i dintorni, a parte il mare che è favoloso, ma Dubrovnik è a pochi chilometri dal Montenegro, dove c'è una costa altrettanto bella, dove c'è la città di Buda che non avrebbe vista, c'è… Settigni, è bellissima, però è della città vecchia, no? Sì, questa è la città vecchia. E poi c'è Settigni, che era la capitale allora della regina Margherita. E chi non ha fatto la strada alle bocche di Cattaro a Settigni, come l'ho fatto io all'inizio degli anni 70, vi assicuro che chi ha visto quello non ha più paura dei burroni, perché è quello che vedeva. Vabbè, sì, questo sì, anche c'è il Cattaro, c'è… Straordinario. Ma quello che, ecco, questa immagine, a Dubrovnik, a differenza che a Ragusa, si sente moltissimo, tra l'altro nel periodo titino che gli lasciava la libertà di praticamente fare Torino, però era obbligato a tenere il nome Dubrovnik, non gli consentiva l'aggancio con Ragusa. Ma si sente moltissimo l'atmosfera veneziana, perché Dubrovnik poi era una città, era una repubblica marinara libera, ma con grossi agganci con Venezia. Certo, era l'antagonista di Venezia ed era, rimase per secoli, repubblica di Marittima. Una delle città che difendeva l'Occidente contro l'Islam, tutto qua. Certo, e avevano grandissimi rapporti con la costa italiana. Certo. Tutti i documenti dell'archivio storico di Dubrovnik sono in italiano. Ebbè, c'è un motivo, perché quella presenza italiana in quella zona, che è un discorso che ci porterebbe incredibilmente lontani dall'Istria a scendere, è una strada che è stata cementata per centinaia di anni. Ma torniamo a Lucio Malfedano, amministratore di questa città, che a un certo momento dice viene avanti questo gemellaggio, ha questo momento clui in cui va la delegazione ragusana lì e poi praticamente non se ne è parlato quasi più. No, stranamente, perché fino a quando io sono stato assessore, diciamo come carica pubblica, perché io ci vado sempre ogni anno ormai, come sono stato io, noi abbiamo portato lì parecchie cose, abbiamo fatto una mostra sul centro storico di Ibla, abbiamo portato anche il coro, se ti ricordi. Sì, come è venuto qua quello? Il coro nostro. Ah, no, ma quello di Dubrovnik è venuto qua pure. Sì, ma noi abbiamo portato anche il coro. Perfetto, loro sono famosi per il canto a cappella, no? Sì, sono famosi per questo. E abbiamo fatto tante manifestazioni, anche al centro culturale dell'università, sono stato invitato parecchie volte. Poi piano piano, piano piano, devo dire che i sindaci... Questa forte si è inaridita. Già non dava molta acqua prima. Ma devo dire che tutti i gemellaggi che ha fatto il ragusa poi si finiscono... Allora, questo ci porterebbe a farci domande più o meno tra virgolette cattive. Perché i gemellaggi si inaridiscono e vanno a morire, secondo te? Ma perché ci vorrebbe, andando uno scambio turistico, la prima cosa, per fare conoscerli a tutti, ci vuole lo scambio turistico dei voli charter che da Ragusa portano all'altra Ragusa in... Avendo sia Dubrovnik che Ragusa con Comiso all'aeroporto sarebbe possibile... Esatto. E questo dovrebbe essere fatto. E soprattutto le amministrazioni che sono susseguite alla nostra avrebbero dovuto dare un occhio particolare. Però... Anche perché noi siamo una città deliziosa, ma credetemi Dubrovnik è una perla. No, un'altra cosa. Siamo fuori categoria. Comunque quelli di Dubrovnik sono venuti anche qualche anno fa. Sì, sono venuti. Una delegazione è venuta, è stata ricevuta, sindaco chi era? Piccitto forse. O credo Piccitto, non mi ricordo. È venuta qui a fare... Quindi allora anche loro ci sarebbe un minimo... Sì. Diciamo che questa pianta, se fosse annaffiata, si potrebbe provare a farla vivere ancora. Deve essere annaffiata. Deve essere. E allora ci auguriamo che questa nostra chiacchierata in ricordo, no? Che poi è una chiacchierata sull'onda dal tempo passato, sono passate, quando siamo andati noi saranno 18 anni, 19 anni. Eppure io ricordo, poi ci sono tornato un paio di volte anche io per i fatti miei. Dubrovnik è un posto straordinario. L'aggancio, l'avvicinanza, lo stringere legami con un posto come Dubrovnik, che è una delle capitali mondiali del turismo, noi potremmo averne solo vantaggi. Mettiamoci. Ma poi se si cerca il mare bello, bisogna andare a Dubrovnik. Dico mare bello, pulito, che non sembra neanche l'Adriatico italiano. Certo, è molto diverso dal lato di fronte. No, no, assolutamente. E devo dire, io ho spinto però Vox Clamance in deserto. Allora, ci auguriamo che questa Vox trovi un poco meno di deserto. Io sono sempre… Poi tra l'altro, io ripeto, lì tramite la Ivana Bugelez, in cui io andavo ogni anno, siamo stati sempre… Lei veniva da noi, noi andavamo a casa sua. Bellissimo. E poi, ripeto, la festa che tu hai ricordato di San Biagio, a febbraio, che è bellissimo. Io la cosa che ricordo l'ultimo giorno, proprio dopo questa festa di San Biagio, poi siamo partiti, noi siamo partiti all'aeroporto, con Ivana e con un'altra, con un'altra deliziosa signora che era componente del… Mi disse, lei vede perché… Mi disse, vede, lei è giornalista, vede perché si fanno certi errori, non lo sa… Dice, lei lo sa qual è il piatto nazionale di Dubrovnik? Io confesso, come si vede dal mio figlio, sono una pasta… Non lo sapevo. Ho detto, maccaroni sporchi. Che fanno per la festa di San Biagio. Che fanno per la festa di San Biagio. E siccome il papà di Ivana, che era un medico brillantissimo, anziano, noi andavamo, ci andavamo anche con la mia famiglia, ogni anno per San Biagio andavamo a festeggiare… Maccaroni sporchi. Maccaroni sporchi. Poi c'era, il giorno dopo, il pranzo ufficiale dopo la festa e c'erano maccaroni sporchi. E sopra, ha daffiato da tantissimo vino bianco che per quella zona… Vino bianco è eccezionale. Eccezionale. Benissimo. Abbiamo, col dottore Valfitano, abbiamo riportato così vagamente un po' di amarcordi su questa occasione che forse si è persa. Ceguriamo che non si è persa del tutto. Siamo così speranzosi, non voglio dire presuntosi, da immaginare che questo piccolissimo tentativo di rinascita possa sia un seme gettato, chi lo sa se germoglierà. Di sicuro Nuccio è convinto, io ho d'accordo con lui, che l'idea di questo gemellaggio era una grande idea che poi magari si è lasciata perdere. Io termino col dire, intanto ringraziare le emittente perché finalmente… Qualcuno se ne ricorda. Non dico con stupore, no, perché conoscendovi, voi siete quelli che vi siete più di tutti prodicati perché ci si facesse il gemellaggio e soprattutto perché, anche come chiacchierate, incontrandoci, di poter rivitalizzare questo gemellaggio. Che bisogna farlo. Diciamo che dopo lunga pezza che non se ne parla speriamo che la vox diventano voces e quindi aumentino. Ragusa, si chiama Ragusa e poi si va lì e c'è il caffè Ragusa che è in piazza, quello principale si chiama Caffè Ragusa. E questo sono… Ragazzi non ci sono molti posti. Ricordiamocelo questa nostra consorella che ha un nome un po' come il nostro e un po' no. Detto questo, grazie al dottore Malfitano. Buonasera.